In questa lezione ci occuperemo dell'impatto sociale dei disastri e della organizzazione della risposta da parte delle istituzioni governative o non governative presenti sul campo. Sono una psicologa psicoterapeuta e da circa 15 anni faccio parte di un'associazione di volontariato alla Società Italiana di Psicologia dell'Emergenza Social Support che in Italia interviene nelle emergenze per il supporto psicologico delle vittime e delle comunità. La nostra organizzazione è articolata a livello regionale e le sezioni regionali sono riunite in una federazione nazionale che ha festeggiato nel 2019 i 20 anni di attività. Siamo iscritti nell'elenco centrale del Dipartimento di Protezione Civile che accoglie le organizzazioni che per caratteristiche operative e diffusione assumono particolare rilevanza in diretto raccordo con il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile in caso di eventi di rilievo nazionale. Per operare nel settore del supporto psicosociale in Italia è necessario considerare la legislazione relativa alla professione di psicologo al quale la legge 56 1989 riserva le attività di diagnosi, abilitazione, riabilitazione e sostegno in ambito psicologico rivolta a persone ma anche a gruppi, organismi sociali e comunità. È quindi importante laddove vengono previsti questi interventi utilizzare esclusivamente personale abilitato rappresentato dai scritti all'ordine degli psicologi. La psicologia dell'emergenza si serve di varie conoscenze che le sono proprie per il soccorso alle persone e alle comunità colpite da catastrofi, cercando di comprendere i processi decisionali e le scelte comportamentali nelle situazioni di pericolo, analizzando la complessa interazione tra mente, mezzi e sopravvivenza. Comprende varie branche della psicologia per lo studio dei processi psicologici che si attuano nelle situazioni non ordinarie e negli eventi acuti e anormali. In Italia questa funzione finora è stata svolta principalmente dalle associazioni di volontariato, anche se la normativa del 2006 prevederebbe la costituzione di equip regionali di pronto intervento, con personale delle unità sanitarie locali adeguatamente formato, ma allo stato attuale le regioni non hanno attuato investimenti in questo settore e né hanno messo a punto una rete organizzativa adeguata. La normativa di riferimento nel contesto italiano, a seguito della legge 225 del 1992 che istituiva il Servizio Nazionale di Protezione Civile, riguarda due direttive. La prima, emanata nel 2001, che si occupa dei soccorsi sanitari nelle catastrofi. E la seconda, più specifica per il supporto psicosociale, che risale al 2006, criteri di massima sugli interventi psicosociali da attuare nelle catastrofi. in questi interventi legislativi troviamo due grandi temi. Il danno che produce il trauma, sia sulle vittime che sui soccorritori, che può palesarsi in forma acuta, ma avere anche ripercussioni nel lungo periodo delle ripercussioni piuttosto invalidanti e i fattori protettivi. Questa è la ragione per la quale parliamo di impatto sociale del disastro e non solo di impatto individuale. Perché sebbene le persone vengano colpite individualmente, ogni individuo esiste in un contesto nel quale le risorse di coping individuali, ma anche quelle collettive rappresentate dalla famiglia e dalla comunità, sono fattori protettivi determinanti per il superamento del trauma. Come vedete in questa rappresentazione grafica, quando i fattori protettivi perdono la loro funzione perché sono colpiti, rappresentano essi stessi ulteriore fattore traumatico. La direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2006, criteri di massima sugli interventi psicosociali da attuare nelle catastrofi, individua dei destinatari. I destinatari primari degli interventi di supporto psicologico-psichiatrico in emergenza sono le vittime dirette di eventi dirompenti ed improvvisi, indipendentemente dalla gravità dei danni materiali subiti ed evidenti. Sono anche i testimoni, i soccorritori, i gruppi sociali quali famiglie, squadre di soccorso e individua anche delle priorità da dare alle fasce deboli, i bambini, gli anziani, i disabili, le persone sofferenti di disturbi mentali. Questa assistenza deve essere erogata in fase acuta, ma anche in fase di breve medio termine. La direttiva individua degli obiettivi. L'equip, infatti, in rapporto alle diverse fasi dell'intervento e alle specifici bisogni emergenti, deve poter consentire la realizzazione delle manovre prioritarie per la sopravvivenza fisica dei destinatari dell'intervento e provvedere alla tutela della salute psichica attraverso l'attivazione di tutte le risorse personali, ma anche comunitarie. L'equip deve garantire, oltre alla raccolta delle domande di aiuto spontanee, processi di identificazione attiva dei bisogni. Deve mettere in atto le iniziative di supporto in modo coordinato con le altre azioni previste e attivate nella catena dei soccorsi, al fine di evitare sovrapposizioni e potenziali conflitti. L'equip deve inoltre incentivare i processi di autodeterminazione, riconoscendo ad ogni destinatario dell'intervento il diritto di operare scelte consapevoli relativamente alla propria salute. Deve tutelare la dignità e il rispetto della persona in tutte le azioni di soccorso, supportando la decodifica delle differenze e delle specificità culturali dei destinatari e vigilando affinché non insorgano processi di stigmatizzazione, in particolare attraverso l'etichettamento di comportamenti che potrebbero sembrare anomali, se separati dal contesto in cui si sono rilevati. Porre particolare attenzione alla distribuzione delle informazioni utili ad attivare comportamenti autoprotettivi e di riorientamento adattativo e fornire strumenti per facilitare la comunicazione, la comprensione e l'utilizzo delle informazioni stesse. Infine deve garantire la raccolta e la conservazione accurata dei dati utili all'intervento al fine di permettere una costante azione di monitoraggio degli interventi stessi. L'assistenza psicosociale anche se mai compiutamente realizzata nei disastri in Italia, come previsto dalla normativa, principalmente a causa della competenza concorrente Stato-Regioni in materia di protezione civile, ma anche probabilmente a causa della genericità della normativa stessa, si allinea comunque con le indicazioni adottate in ambito internazionale e ricavate dalle lezioni apprese. Per questa ragione potrebbe essere opportuna la proposta di un framework europeo ricavato ispirandosi alle linee guida proposte da OMS. Ora esamineremo le linee guida IASC per la salute mentale e il supporto psicosociale nei contesti di emergenza, pubblicate da OMS nel 2007. Il Comitato Permanente Interagenzie, IASC, è un forum interagenzie composto dalle Nazioni Unite e dai partner umanitari non ONU, fondato nel 1992 per rafforzare l'assistenza umanitaria alle popolazioni colpite da calamità naturali e conflitti. In particolare, per i nostri scopi, esamineremo i principi fondamentali, l'assessment e monitoraggio e valutazione, la mobilitazione della comunità, i servizi sanitari e le linee guida che attengono alla comunicazione. Vediamo ora in dettaglio questi punti. Cominciamo dai principi fondamentali che sono promuovere i diritti umani e l'uguaglianza. Gli attori umanitari dovrebbero promuovere i diritti umani di tutte le persone colpite e proteggere loro e i gruppi che sono maggiormente a rischio di violazione dei diritti umani. Gli attori umanitari dovrebbero anche promuovere l'equità e la non discriminazione e dovrebbero mirare a massimizzare l'equità nella disponibilità e accessibilità al supporto psicosociale alle popolazioni colpite per sesso, età, gruppi linguistici, gruppi etnici in base alle esigenze individuate. Dovrebbero poi utilizzare approcci partecipativi. L'azione umanitaria dovrebbe massimizzare la partecipazione della popolazione locale nella risposta umanitaria. Nella maggior parte delle situazioni di emergenza un significativo numero di persone mostra una capacità di recupero sufficiente per partecipare ai soccorsi e agli sforzi di ricostruzione. Fin dalla prima fase di un'emergenza la popolazione locale dovrebbe essere coinvolta nella misura più ampia possibile nell'assessment, progettazione, attuazione, monitoraggio e valutazione dell'assistenza. La partecipazione dovrebbe consentire ai diversi sottogruppi presenti nelle comunità locali di mantenere o riprendere il controllo sulle decisioni che influenzano le loro vite e costruire il senso di appartenenza che è importante per raggiungere la qualità, l'equità e la sostenibilità del programma. Altro principio è quello di non nuocere. L'aiuto umanitario è un mezzo importante per aiutare le persone colpite da emergenza ma gli aiuti possono anche causare danni non intenzionali. Il lavoro sulla salute mentale e il supporto psicosociale potrebbe causare danni perché si tratta di questioni altamente delicate che impattano sulla vita delle persone. Inoltre mancano ancora ampie prove scientifiche che sono disponibili per altre discipline. Gli attori umanitari possono ridurre il rischio di danni in vari modi come ad esempio partecipando a gruppi di coordinamento per imparare dagli altri e ridurre al minimo le duplicazioni o le mancate risposte. Progettare gli interventi sulla base di informazioni sufficienti. Aprirsi al controllo e alla revisione esterna. Sviluppare sensibilità e competenza culturale nelle aree in cui si interviene. Rimanere aggiornati sulla base delle evidenze relative a pratiche efficaci. Potrebbero inoltre sviluppare una comprensione e una riflessione coerente sui diritti umani, sui rapporti di potere che esistono anche tra soccorritori e soggetti di emergenza e di privilegiare gli approcci partecipativi. Quarto principio, valorizzare le risorse disponibili e le capacità esistenti. I gruppi e le comunità interessate infatti dispongono di risorse che supportano la salute mentale e il benessere psicosociale. Un principio chiave anche nelle prime fasi dell'emergenza è quello di rafforzare le capacità locali, sostenendo l'autoaiuto e le risorse già presenti. Programmi guidati e implementati esternamente possono portare a proporre interventi inappropriati e di sostenibilità limitata. Dove è possibile, è importante rafforzare le capacità del governo e della società civile. I compiti chiave sono identificare, mobilitare e rafforzare le abilità e le capacità dei individui, famiglie, comunità e società. Quinto principio, creare servizi di supporto integrati, da proliferazione di servizi autonomi, come quelli che si occupano ad esempio solo delle vittime di stupro, solo delle persone con diagnosi specifica come il PTSD, può creare un sistema di assistenza frammentato. È auspicabile quindi organizzare attività integrate in sistemi più ampi. Ad esempio, implementare meccanismi esistenti di sostegno della comunità, sistemi scolastici formali e non formali, servizi sanitari generali, servizi generali di salute mentale, servizi sociali, per raggiungere più persone, perché in genere sono più sostenibili e tendono a portare meno stigma. Altro principio è quello di adottare interventi complessi su più livelli. In caso di emergenza, le persone sono colpite in modi diversi e richiedono tipi diversi di supporti. Una chiave per organizzare la salute mentale e il supporto psicosociale è sviluppare un sistema stratificato di supporti complementare che soddisfi delle esigenze di diversi gruppi. Questo può essere illustrato da una piramide. In questa piramide troviamo alla base le considerazioni di ordine sociale inseriti nei servizi di base e sicurezza, che vanno sensibilizzati a questo per arrivare al vertice della piramide rappresentato dai servizi specializzati, quindi servizi medici specializzati. Tutti i livelli della piramide sono importanti e che dovrebbero essere, idealmente dovrebbero essere implementati contemporaneamente. Passiamo ora ad un altro capitolo, quello dell'assessment, monitoraggio e valutazione. L'assessment è la raccolta e integrazione di dati ai fini di una valutazione, decisione o indicazione per l'intervento. L'assessment è un passaggio indispensabile nel processo di progettazione degli interventi, che non vanno proposti sulla base di idee precostituite, ma ritagliati sulla specificità del contesto. Il monitoraggio si riferisce a visite, osservazioni e domande che poniamo durante l'implementazione di un programma per vedere se procede come previsto. La valutazione si riferisce all'esame di un programma all'inizio, a metà e alla fine per vedere se ha raggiunto i risultati desiderati. Ovviamente è importante sapere quali sono i risultati desiderati per valutarli. È importante attenersi a queste condizioni, assicurarsi che l'assessment si svolga in modo coordinato. Sul campo infatti possono esserci diversi attori che non devono agire senza coordinarsi, anche per quanto riguarda le azioni di valutazione sul campo, che dovrebbero essere svolte solo se è strettamente necessario e non ci dovrebbero essere sovrapposizioni o doppioni. Altra condizione importante a cui attenersi è quella di raccogliere e analizzare le informazioni chiave rilevanti per la salute mentale e il supporto psicosociale. La valutazione dovrebbe raccogliere informazioni disaggregate per età, sesso e luogo quando possibile. Ciò include l'identificazione dei gruppi a rischio nelle comunità e le loro particolari esigenze e capacità. Infatti individuare sia i bisogni che le risorse delle persone colpite, quindi dalle persone che funzionano bene a quelle che soffrono di gravi disturbi mentali, è un approccio assolutamente raccomandato per implementare l'empowerment individuale e comunitario. Un altro punto importante è la necessità di condurre le valutazioni in modo etico e partecipativo e nel rispetto della privacy. La valutazione partecipativa è il primo passo per un dialogo con le popolazioni colpite, che se ben fatto non solo fornisce informazioni, ma può anche aiutare le persone a prendere il controllo della loro situazione, identificando in modo collaborativo problemi, risorse e anche potenziali soluzioni. Altro punto, raccogliere e diffondere i risultati della valutazione. Le organizzazioni dovrebbero condividere i risultati delle loro valutazioni in modo tempestivo e accessibile con le altre organizzazioni, con la comunità e anche con gli stakeholder, proteggendo accuratamente la privacy delle persone coinvolte. Definire una serie di indicatori per il monitoraggio e la valutazione secondo gli obiettivi definiti e le attività messe in campo. Gli indicatori possono essere di processo o di soddisfazione. Gli indicatori di processo descrivono le attività e coprono la qualità, la quantità e la copertura e utilizzo di servizi e programmi. Gli indicatori di soddisfazione descrivono la soddisfazione della popolazione colpita verso l'attività. Per il monitoraggio e la valutazione degli interventi è necessario misurare gli indicatori prima e poi assolutamente dopo l'intervento per capire se c'è stato qualche cambiamento. Tuttavia sarebbe necessario un design molto più rigoroso per determinare se l'intervento ha causato il cambiamento. Quindi saremo nel campo della ricerca scientifica vera e propria. Un altro argomento trattato dalle linee guida IASC e chi ci interessa per il nostro scopo è quello relativo alla mobilitazione della comunità e sostegno. Un intervento partecipativo prevede il massimo sforzo delle parti interessate per mobilitare la comunità. E' importante in questo caso utilizzare informatori chiave, ascoltare gruppi formali e informali prendendo contezza di come si stanno auto organizzando le comunità locali e in quale modo le diverse agenzie possono efficacemente partecipare ai soccorsi. Un altro compito importante è quello di facilitare la partecipazione delle persone emarginate, stabilire tempestivamente spazi sicuri per la comunità per supportare e agevolare le discussioni sulla pianificazione e la diffusione delle informazioni, promuovere processi di mobilitazione della comunità anche identificando le risorse umane presenti nella comunità stessa, supportarne le iniziative incoraggiando attivamente quelle che promuovono il sostegno della famiglia e della comunità e di tutti i membri della comunità senza discriminazione colpiti dall'emergenza, comprese le persone a maggior rischio. È utile fornire brevi sessioni di formazione partecipativa, ovvero appropriato, insieme al supporto di follow up. È importante anche scoprire i supporti culturali e religiosi e spirituali propri di quella comunità e individuare i meccanismi di coping utilizzati spontaneamente. Un altro fattore che va particolarmente curato è quello della prevenire la separazione dei bambini piccoli 0-8 anni, la separazione con i loro caregiver e facilitare il sostegno ai bambini piccoli. Quindi tenere i bambini con le loro madri, padri, famiglie, prevenendo le separazioni e rinunendo bambini e genitori. Contemporaneamente prendersi cura dei caregiver organizzando incontri in cui possono discutere del passato, del presente e del futuro, condividere la risoluzione dei problemi e promuovere il sostegno reciproco nelle cure dei propri figli. Un altro elemento da tenere in grande considerazione è quello della facilitazione del gioco culturalmente appropriato e delle cure che possono fornire ai bambini un senso di routine e partecipazione alle attività di normalizzazione. Abbiamo poi il capitolo dei servizi sanitari. Andrà valutato attentamente il servizio sanitario verificando se i servizi stessi includono un'attenzione sufficiente alle componenti psicologiche e sociali nell'erogazione delle prestazioni sanitarie. Presso le strutture sanitarie primarie dovrà essere organizzata la raccolta di dati sulla salute mentale della popolazione. Si deve poi favorire l'accesso all'assistenza delle persone con gravi disturbi mentali e delle persone che vivono nelle strutture residenziali. È importante per quanto possibile evitare la creazione di servizi di supporto paralleli ai servizi sanitari focalizzati su specifiche di agnosi, ad esempio stress post-traumatico o su gruppi ristretti e l'assistenza straordinaria deve comunque sempre integrarsi con i servizi esistenti. Non si deve confondere naturalmente questa raccomandazione con l'affidamento esclusivo ai servizi esistenti così come sono, perché un'emergenza è per definizione una condizione nella quale le risorse ordinarie non sono sufficienti a coprire tutti i bisogni. C'è poi da sottolineare che una delle modalità di coping più pericolosa nelle emergenze è costituita dall'abuso di alcol e dall'uso di sostanze stupefacenti. Prevenire l'uso e la dipendenza da alcol e altre sostanze nocive e facilitare gli interventi di riduzione del danno nella comunità è raccomandato oltre naturalmente alla gestione dell'astinenza e di altri problemi acuti. Arriviamo infine alla comunicazione in emergenza. Le linee guida raccomandano un'attenzione particolare alla comunicazione. Questo lo si fa facilitando la formazione di un team di informazione e comunicazione, soprattutto se i normali sistemi di comunicazione in termini di persone e infrastrutture non sono perfettamente funzionanti. È importante costituire un team di comunicatori per fornire informazioni sull'emergenza, sui soccorsi e sui diritti legali e dare voce ai gruppi emarginati o dimenticati. La squadra può essere costituita dal personale dei media locali, delle organizzazioni, delle agenzie di soccorso, del governo o altri attori coinvolti nell'emergenza. I membri stessi della comunità colpita possono svolgere un ruolo chiave nella diffusione delle informazioni sui servizi attraverso il passaparola. Le fake news e l'assenza di informazioni credibili e accurate tendono ad essere le principali fonti di ansia per le persone colpite da un'emergenza e non possono creare ulteriore confusione ed insicurezza in uno scenario che è già sufficientemente confuso ed insicuro, quale quello delle emergenze. Il team dovrà fornire informazioni alla popolazione colpita, informazioni sull'emergenza, cioè come è avvenuta, quali sono le caratteristiche di questa emergenza in maniera veritiera, sui soccorsi e anche sui loro diritti. inoltre potrà fornire informazioni sui metodi di coping positivo, adattando le informazioni per soddisfare le esigenze specifiche dei sottogruppi della popolazione in modo appropriato. Gli approfondimenti che raccomando sono reperibili ai seguenti link e sono le linee guida europee sulla salute mentale dell'OIASC del 2007 e il DPCM 2006, criteri di massima sugli interventi psicosociali da attuare nelle catastrofi.